E' stata una giornata indimenticabile, quella vissuta da Monsignor Giuseppe Russo, finora parroco della chiesa di San Francesco d'Assisi a Martina Franca e adesso vescovo di Altamura Gravina Acquaviva. La cerimonia di ordinazione episcopale si è svolta a Taranto in una concattedrale grimita di vescovi, sacerdoti, fedeli, familiari di Monsignor Russo, San Giorgese, di nascita, a partire dall'emozionato padre novantenne. La celebrazione eucaristica è stata ufficiata dall'arcivescovo metropolita di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, accompagnato da Monsignor Nunzio Galantino, presidente merito dell'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, e Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona. Tanti momenti da ricordare, la prostrazione a terra prima della nomina, l'imposizione delle mani sulla testa del vescovo da nominare da parte degli altri vescovi, la preghiera di consacrazione, la consegna della pastorale dell'anello vescovile. Il rito della dedicazione di un vescovo credo che sia uno tra i più belli della chiesa, poi farlo all'interno della concattedrale credo che sia stato veramente un grande sogno, perché la concattedrale è una delle chiese che noi conosciamo, l'architettura non temporanea ci ha concesso tra le più belle, del maestro Gio Ponti. Per Taranto è una realtà amata da tanto tempo, da sempre, le grandi celebrazioni si svolgono lì, quindi per me è stata veramente un'emozione fortissima quando dal presbiterio guardavo l'assemblea, soprattutto dopo l'ordinazione, dopo il rito, è stata veramente un'emozione forte. Io ho scelto come motto Episcopale Pasci miei Agnelli perché è un'immagine quella del Buon Pastore che voglio cercare di incarnare con semplicità.